Abbiamo realizzato una manifestazione che unisce tutte le istituzioni e tutte le istituzioni con la società civile e con la comunità. È un messaggio importante perché in un momento nel quale noi registriamo da un lato un leggero decremento dei femminicidi, dall'altro lato un'impennata del 57% delle richieste d'aiuto e al 15-22 il numero del centro antiviolenza della Presidenza e Consiglio dei Ministri. Abbiamo bisogno ancora una volta di sottolineare che siamo tutti insieme contro la violenza, ma essere tutti insieme contro la violenza significa innanzitutto cercare in tutti i modi di promuovere un cambiamento culturale, significa provare in tutti i modi a non lasciare solo le donne nel momento in cui hanno bisogno, nel momento in cui devono trovare il coraggio per denunciare e a non lasciarle solo quando denunciano, perché in quel momento hanno bisogno di maggiore sostegno e di maggiore protezione. Protezione concreta, fatta di azioni concrete, è importante parlare per carità, dibattere, ma noi dobbiamo dare alle donne in quei momenti l'autonomia, l'indipendenza economica, lavorativa e la possibilità di ricostruire la propria esistenza. E poi c'è un altro tassello che è quello che riguarda noi uomini, qui mi sento protagonista non solo come prefetto ma anche come uomo, ed è quello che noi dobbiamo in tutti i modi essere consapevoli, che la donna deve essere libera, libera di scegliere, che l'amore, come dicevamo prima, è libertà e che di fronte a un rifiuto, di fronte a un rapporto che si interrompe, non si sceglie mai la via della violenza e non si deve scegliere men che meno la via di farla finita.